E Pier Giorgio Odifreddi non è d'accordo con Alessandro Barbero. Qua non c'è la fotografia di Pier Giorgio Odifreddi, questa è la foto di Alessandro Barbero. E Pier Giorgio Odifreddi è un logico matematico di fama internazionale. Alessandro Barberi è uno storico, anche lui è uno storico. Il fatto è che Pier Giorgio Odifreddi non è d'accordo con Alessandro Barbero relativamente al Green Pass. Perché il brillante storico Alessandro Barbero dice che è d'accordo con i vaccini, ma non è d'accordo col Green Pass. Per cui non si capisce quale sia la logica di Alessandro Barbero. Perché il Green Pass ce l'hai soltanto dopo che ti sei vaccinato. Alessandro Barbero, ma Aristotele diceva terzio non dadur e la stessa cosa lo dice Pier Giorgio Odifreddi, terzio non dadur. Come mai? Ma tu Alessandro Barbero, nelle cacce di si dice, ma che ti sei bevuto il cervello? Sei d'accordo col vaccino e non sei d'accordo col Green Pass? Oddio, 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 Aristotele diceva terzio non dadur. Ma tu lo conosci Aristotele? La logica di Aristotele dice che non ti piace Alessandro Barbero? Caro, caro, mi dispiace tanto che non ci sia la foto di Pier Giorgio Odifreddi. Vedete, Pier Giorgio Odifreddi, articolo pubblicato sulla stampa il 9 settembre 2012. Siamo sulla stampa, vedete? Io gli ho già dedicato un video a questo storico qua, Alessandro Barbero. Gli ho dedicato un video e il video gliel'ho dedicato prima che intervenisse Pier Giorgio Odifreddi. Ma ovviamente Pier Giorgio Odifreddi c'è tante altre cose da fare. Ebbene, Pier Giorgio Odifreddi, caro, io sono più giovane di te Pier Giorgio Odifreddi. No, no, tu sei più giovane di me Pier Giorgio Odifreddi. Lo sai Pier Giorgio Odifreddi che io ho già compiuto 81 anni Pier Giorgio Odifreddi e sto veleggiando verso gli 82 anni. Eppure c'è avuto il tempo, il tempo, c'è avuto il tempo, io carissimo, Pier Giorgio Odifreddi, di dedicargli un video ad Alessandro Barbero. Caro Alessandro Barbero, nelle carceri si dice ma che te lo sei bevuto il cervello, caro Alessandro Barbero? Tu sei d'accordo con i vaccini, però non sei d'accordo con Gripas. Ma che bello Alessandro Barbero. Ma il fatto è che Pier Giorgio Odifreddi è un docente di logica, di logica è anche un saggisto del fama internazionale e ti può spiegare la logica aristotelica, hai capito? Alessandro Barbero è terzo in un dato, lo diceva pure Aristotele. Lo sai Alessandro Barbero? Che qua c'è la mia storia della filosofia, Alessandro Barbero. E questo è un mio saggio scientifico, sai, che sta in tutto il mondo, vedi? Frommati, archi, tu patriarchi, a caro Alessandro Barbero. Che Pier Giorgio Odifreddi non è d'accordo con te, Alessandro Barbero. Ma io, Serafino Massoni, ci ho dedicato un video ancora prima che intervenisse Pier Giorgio Odifreddi, che è logico, matematico, saggista di fama internazionale e conosce bene la logica, non solo quella aristotelica. Alessandro Barbero, ma lo sai che Aristotele diceva terzo non dato? E lo sai che nelle cacce a quelli che ragionano come te si dice ma che te sei bevuto il cervello? Lo sai Alessandro Barbero che io sono questo qua, lo vedi chi sono io, Alessandro Barbero? Guarda Alessandro, questi sono i miei romanzi, Alessandro Barbero. Lo sai Alessandro Barbero che questo romanzo, La Lama e la Rosa, pubblicato dalla casa editrice internazionale Ascet nella collana I codici segreti della storia, lo sai che ha venduto oltre 50.000 copie e io come diritti d'autore ho avuto oltre 15.000 euro. Ma a parte queste questioni, lo sai tu, Alessandro Barbero, che io oggi come oggi, benché io abbia quasi 82 anni, sono un potentissimo opinionista dal web, uno dei più potenti opinionisti del web, perché su YouTube io ho un canale che chiamo la mia web tv, un canale con circa 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 11 milioni, 11 milioni di visualizzazioni. Beh, bravo Pier Giorgio Di Freddi, mi dispiace che qua non ci sia la tua foto, devo mostrare la foto di Alessandro Barbero che è sempre tanto sorridente, lo vedi che bel sorriso che c'ha Alessandro Barbero, il sorriso del bambino contento, il bambino contento. Ma Alessandro Barbero, tu la conosci la logica aristotidica? Lo sai che Aristotele diceva, è terzium non datur? Va bene caro Alessandro Barbero, io e Pier Giorgio Di Freddi ti salutiamo tanto 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 e ti invitiamo ad interessarti della logica aristotidica che diceva terzium non datur, ok, ok, ok.